Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. In questo video volevo informarvi riguardo la skin Skull Trooper, che sarebbe lo scheletro, che potrebbe tornare nello shop della modalità Battaglia Reale di Fortnite a fine ottobre, nei giorni di Halloween. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram. E se volete, entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione e condividete il video ai vostri amici e sui vostri social. E iniziamo subito! Se avrete visto il trailer della stagione 6, che gli sviluppatori hanno pubblicato sui propri social questa mattina, che potrete vedere su Fortnite appena riavvierete il gioco dopo l'aggiornamento della stagione 6, come bene potrete vedere nel trailer della stagione 6 è presente la skin dello scheletro. E non solo ragazzi, perché a livello 82 del pass battaglia della stagione 6, si sblocca questo standardo, che sarebbe lo standardo dello Skull Trooper, dello scheletro. Stranamente, sia la skin e sia lo standardo dello scheletro sono presenti nel trailer e nel pass battaglia della stagione 6, stagione in cui verrà rilasciato l'aggiornamento di Halloween con una nuova patch. Perciò questo, molto probabilmente, vorrà significare che lo scheletro tornerà nello shop nei giorni di Halloween, a fine ottobre. Non è sicuro, ma probabilmente sarà come la penso io. A di là di tutto, è davvero ottimo il pass battaglia della stagione 6. Secondo me avrebbe potuto costare anche di più di 950 V-Buck. Sarebbe stato comunque onesto, in quanto ci sono davvero tantissime cose, bellissime tra l'altro, da poter sbloccare. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti sotto a questo video, se secondo voi a fine ottobre, nei giorni di Halloween, verrà rilasciato nuovamente nello shop lo scheletro. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. Poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nei miei social nella descrizione. E da Orkoverd tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!